E' arrivata una... Gramegna è morto In questo piatto So, then... Was it you? So, then... E' il tuo manager E' il tuo manager Come manager? Mr. Carbo E' io? E' il tuo manager? Lo so E' il tuo manager E' il tuo manager E' il tuo manager E' il tuo manager Quanto mi riguarda l'interrogatorio Concuso Sto scherzando, vero? Portatelo via E' giustizia Beh Sei da solo? Sei da solo? Un incontro che evidentemente ha segnato suo destino Ma non me ne rammarico affatto In pochi piangeranno la sua morte E io non sarò certo fra questi Vedi Albino Io con i preti Non ci sono mai andato d'accordo Perché? Perché loro stanno sempre dietro a quello che gli dice il Papa Io sono socialista E credo che tutti devono essere liberi di pensarla a modo loro Ok Ok, puoi andare Grazie Sono molto contento che siete venuti Mi fa piacere Poi soprattutto non pensavo di avere così tanti amici Beh davvero? Sì Un medico? No, no, questo Oh, oh, ecco che ne arrivano altri scudenti Grazie Grazie Sono molto contento che siete venuti Grazie